Perdonanza 2023, dal fuoco del morrone al corteo storico che quest'anno vedrà la partecipazione di più di 100 bambini. Tema della puntata di L'Aquila al centro, la trasmissione condotta da Giustino Parisse, che questa sera alle 21 su Reteotto porterà i telespettatori al centro, appunto, di quella grande festa che è la perdonanza celestiniana. Ospiti di Giustino Parisse, il colonnello degli Alpini Pietro Piccirilli, da sempre anima del corteo storico. Nadia Ianni, che di recente ha fondato il gruppo storico Scudieri e Damigiale della Perdonanza, Floro Panti del centro studi celestiniano e Massimo Lesi, che è stato parte attiva nella creazione del dossier, che ha portato la perdonanza ad essere riconosciuta dall'UNESCO Patrimonio Immateriale dell'Umanità. Facendo crescere questi ragazzi, ma Nadia se ne ha molto più specifica di me in questo settore, questi quasi 100 bambini, che aumenteranno ancora, noi riusciamo a tramandare, ad onorare questi nostri amici e amiche, ma soprattutto, ripeto, a fare ancora più grande questa città. Questo è il messaggio che deve passare. L'Aquila è una bella città, deve vivere, deve svilupparsi, ma soprattutto deve crescere, soprattutto in maniera culturale. È nata per rispondere all'esigenza della città di far sfilare, di partecipare alla perdonanza e di far sfilare anche i più piccoli. La gestione dei bambini ovviamente non è semplice, quindi ci vuole un gruppo specifico, organizzato, che riesca a motivarli, ma anche a contenerli, perché portare tanti bambini in corteo, strutturarli, fargli tenere il ritmo non è semplice, quindi lo fai solamente con l'esperienza e lo fai con l'aiuto. Grazie a tutti.